Allora, oggi mi è venuta l'idea di cucinare un uovo sulla Play Cioè, non so perché mi è venuta questa idea, però mi sembra una grandissima idea E quindi andrò a farlo Anche perché la mia Play ha la PS4 Slim e quindi il coperchietto di plastica si toglie E c'è proprio una parte in alluminio in cui si riscalda un bordello e quindi là ci potrò cucinare Prima però devo riscaldare un po' la Play, quindi andrò a giocare a qualcosa col VR Così si appesantisce, cioè perché i giochi in VR sono pesanti e quindi si riscalda più facilmente Poi andrò a cucinare un uovo Prima però magari pulisco quella cosa Ah, comunque giocheremo a dei giochi in VR Cazzo l'ho già detto Ho l'Alzheimer Ok Quello a cui andrò a giocare Non ho ancora capito bene Che cos'è? No? Da quando c'è quella cosa? Non c'è mai stata prima Ma perché? No! Ma che cazzo fai? Non è la prima volta che uso il VR ma sei stupido Ah, ok Facciamo Perché dovrei comprarmi sta cosa? Ma per... Va bene Cosa? Ah Wow Perché c'è un carro armato? Ma che cazzo? Perché c'è un panda su una barca? Ma che cazzo? Però non è che cazzo Perché ci sono i My Little Pony? Wow Oddio Oh madonna mia Ma è velocissimo Tira la corda Aiuto È bellissimo Oddio è bellissimo Sì, sì, ok Mi sire la testa Aspetta Ok, ora seguo il left By leaning left All right, it's time to use your last so Hold down the right button R, sì, R R Ok Ah Preso Porca madonna Non ti volevo schiantare Ma come un altro Ah, di più ne ho prende Quanti cazzo ne ho prende? Ora ho imparato Minchia vi ammazzo tutti Oddio, però mi fa male la testa Perché questo è rosso? Oh C'è il fuoco Quanti ne devo prendere di cavalletti? Però è bello Oh mio Dio Ma la grafica è perfetta La Oddio Minchia Minchia Verstappen Ma sono un cane Ma che cazzo? No, ma devo No, ma io sterzo con la testa No, sta cosa mi urta Come freno? Ci sto andando a Ah, ma sono miglia Sono 200 km Oh, basta Ma che cazzo? Ho preso il volo Wow Eh, però Ora Ma Cristo Dio Non capisco un cazzo Inclinati No Oh mio Dio Mi gira la testa Guarda Ti prendo la scia Ti ho preso la scia Perché sta rallentando Sta macchina C'è l'ultimo giro E questo è l'ultimo giro Oh, 104 Ma non ce l'ho sta cosa Come faccio a pedalare Scusa Che bello Ah, adesso sono il koala Giusto Però la grafica È fatta bene Comunque Ok Oh Ho Sparato una Una Cos'è sta roba Che ho sparato Ehm Oddio Ma è la nonnetta Quella Dei Dei lunis Oh, ma che Ah Tiro il cibo Tieni Ma è arrivata questa A 20 all'ora Allora La play già fa un bordello di rumore Quindi penso sia Già molto calda Adesso vado a togliere Questo coperchio Intanto prendiamo l'uovo Allora Andiamo a togliere sta cosa Non mi ricordo Mi sto lì Aspetta Mi sa che dovevo fare Sì Ok Aspetta Ok Ecco Io dicevo Questa parte qui si riscalda Veramente Porca madonna Un bordello E adesso vediamo Se riesco a Pulirla un po' Allora Mi sono reso conto Del fatto Che se io avro l'uovo Si sparpaglio ovunque Quindi la mia idea È di mettere Di bastoncini così Oh cazzo Va bene Io lo lascio così però One eternity later Allora Dopo un po' Si è creato Tutto sto schifo Allora Qua Un pochino ai lati Dove c'è meno roba Si è un po' fatto Però non penso proprio Che questo si cuocia mai Quindi È una cosa fallita Vabbè Proprio come me Mi sonora Mi sonora Mi sonora Mi sonora Gu probation